Benvenuti a questa nuova edizione del TG Flash, la prima del 2011 per cui vi rinnoviamo gli auguri per questo nuovo anno da parte mia e naturalmente da parte di tutto lo staff della Multimedia per la Pastorale. Vi ricordo che in questo momento sia sul sito della Diocesi che su quello della Web TV, primaria importanza, ce l'hanno i video, le immagini e i testi legati alla messa di apertura ufficiale del secondo anno di Missione Popolare, ma ora vediamo quali sono gli altri appuntamenti importanti che la nostra Diocesi vivrà nei prossimi giorni. Torna come ogni anno in gennaio l'appuntamento con l'ecumenismo grazie alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Si svolgerà da martedì 18 gennaio a domenica 23. Il programma prevede martedì alle 17.30 presso il Monastero delle Carmelitane e gli Aspinazzi la celebrazione dei Vesperi secondo la liturgia cattolica, con riflessioni a cura della comunità del Carmelo. Sabato 22 alle 17.30 presso la Chiesa Ortodossa russa Sant'Eustacchio in via del Consiglio partecipazione ecumenica ai Vesperi secondo la liturgia ortodossa e meditazioni bibliche. Parteciperanno il Vescovo della nostra Diocesi, la Pastora della Chiesa Metodista e i Presbiteri delle Chiese Ortodosse di Piacenza. Venerdì 21 gennaio alle ore 21 presso la Chiesa di Sant'Antonino, concerto del duo Anima Musiche, domenica 23 alle 10 presso la Chiesa Evangelica Metodista in via San Giuliano, culto evangelico presieduto dalla Pastora Jolin Galapon. Lunedì 17 gennaio, in occasione della festa patronale della parrocchia di Sant'Antonio a Trebbia, celebrazioni eucaristiche alle ore 8, alle 10 e alle 16.30. Al termine di ogni messa avverrà la tradizionale benedizione degli animali. Come sempre la festa sarà anticipata da una serie di iniziative che si sosseguiranno nei giorni precedenti come la benedizione dell'olio e del sale, l'apertura del banco di beneficenza e domenica 16 gennaio messi alle ore 8, alle 10, alle 11 e 15. Inoltre marcia non competitiva, corsa su strada, grande corteo degli animali guidato dalla banda Ponchielli e a seguire grande benedizione degli animali e dei campi. Alle 17.30 la festa sarà chiusa con la distribuzione dei semi del grano e un grande falò. Sabato 22 gennaio prossimo, nella Sala degli Affreschi di Palazzo Vescovile, si terrà come ogni anno l'incontro dei giornalisti in occasione della festa del loro patrono, San Francesco di Sal. Il tema di quest'anno è cambiano i media ma non cambiano le regole. Il programma prevede il saluto di Carla Chiappini in rappresentanza dell'Ordine dei giornalisti, la relazione di Fausto Fiorentini e l'intervento del nostro Vescovo sul tema comunicare e sempre educare. Al termine della mattinata, prima della messa celebrata sempre da Monsignor Gianni Ambrosio, ci sarà la premiazione del concorso per i bollettini parrocchiali organizzato dal settimanale diocesano e il nuovo giornale, che quest'anno ha per tema un popolo in missione. Gli uffici catechistici regionali di Emilia Romagna e Lombardia organizzano un corso di alta formazione per i catechisti per il biennio 2011-2012. Sarebbe opportuno che alcuni catechisti, oltre a quelli individuati dall'ufficio diocesano, fossero segnalati dai vicari di zona con funzione di coordinamento della catechesi della propria zona. Il corso è articolato su due anni e i destinatari sono in particolare i formatori dei formatori, i coordinatori del lavoro di formazione dei catechisti sul territorio, i collaboratori delle commissioni diocesane per la catechesi. Gli incontri sono impostati secondo il metodo del laboratorio e il corso al completo prevede tre weekend residenziali dal sabato mattina alla domenica al primo anno e due weekend al secondo più una settimana conclusiva. La sede del weekend è il Centro Pastorale Bellotta a Ponte Nure. L'ufficio catechistico diocesano invece in collaborazione con l'Istituto La Casa di Piacenza offre a tutti i catechisti e agli educatori un'interessante opportunità per approfondire le tematiche relative all'affettività. Il corso si rivolge in particolare ai catechisti di bambini e ragazzi e adolescenti e si svolgerà in quattro incontri serali a partire da giovedì 10 febbraio. I temi saranno i soggetti dell'educazione, i protagonisti dell'educazione, a quale amore educare e la comunicazione con i ragazzi. Gli obiettivi del percorso saranno raggiunti attraverso una metodologia attiva che prevederà l'alternanza di parti teoriche, momenti di confronto e lavori di gruppo. È tutto anche per questa edizione del TG Flash. Vi ricordo di continuare a visitare sia il sito della web tv sia naturalmente il portale della diocesi sul quale verranno inseriti durante la settimana nuovi video e nuove notizie. Vi auguro una buona settimana e vi aspetto alla prossima edizione del TG Flash. Gli obiettivi del TG Flash.